Wewe ciao a tutti ragazzi benvenuti a un nuovo video di SnowRunner allora l'ultima volta nel video precedente ho sbloccato un nuovo camion avevo sistemato un po' le strade se vi ricordate invece oggi mi piacerebbe andare un po' in giro con la macchina a sbloccare questi potenziamenti voglio prendere questi due potenziamenti poi dato che sarò di strada scendere qua fino alla torre d'osservazione e sbloccare un altro po' la mappa poi se ci sarà del tempo mi vado a sbloccare un altro potenziamento che è qui ci proviamo allora intanto non uso il camion quindi adesso recupero perché io voglio usare la macchina recupera, accetta, ok quindi mantieni deposito camion andiamo con la scout che comunque mi pare sia messa abbastanza bene questa vediamo personalizza snow run sospensioni allora pneumatici ho queste qua ok fango buone fuoristrada medie su strada medie aspetta io ho queste buone medie medie ok posso tenere queste medie medie buone buone medie medie ah ci sono quelle buone per il fango facciamo queste va quelle buone per il fango visto che dobbiamo andare un attimo in giro lì allora esci dal garage ho anche un po' di rifornimenti quelli non mancano allora facciamo la strada quindi uscendo da qui ah c'è una torre qui d'osservazione non è manco troppo lontana raga così quasi facciamo così andiamo a sbloccare sta torre d'osservazione lì tanto qualche cosa qualche torre tenterò di di farla vediamo se ci riesco ad arrivarci sblocco questa e poi vado di là l'ho visto adesso però si parte scusate il cane dovevo uscire di là vabbè adesso frena certo che a freni è messa bene sta macchina devo fare il giro lo so volevo solo togliere l'indicazione qui che mi ero fatta sennò poi mi confondo io seguiamo la strada che mi son fatta speriamo bene oh oh avd oggi mi dedico un po' alla mappa perché ogni tanto ci vuole ho sempre fatto qualche missioncina qualche contratto qualche incarico allora mi son detta dai oggi vado un po' in giro per la mappa dato che ci sono i potenziamenti da da prendere e ancora delle torri da sbloccare dovrei farcela con questa scout ad andare in giro qua è un po' complessa la situazione dai alle ruote buone dai che ce la fai piano ci sono i sassi oh mamma va troppo indietro cerco di di evitare i sassi ragà perché se no qua ci si ribalta che è un piacere pianino pianino ok ci siamo quasi dai non è stato poi così difficile torre sbloccata andiamo a vedere un po' la mappa beh dai ho sbloccato tutta questa zona qui allora adesso da qua ah c'è un potenziamento lì e beh mica male allora facciamo così dato che oggi sono a caccia di potenziamenti adesso torno indietro se mi prende il comando gli dico grazie e allora raga quasi quasi a questo punto c'è il potenziamento qua perché non andare credo che ce l'ho il tempo di di andarmi a prendere un po' di potenziamenti in giro eh adesso prendo questo poi vado a prendermi gli altri come ho detto prima devo girare c'è un po' di fango ma questa macchinina ce la fa ce la fa evitiamo i sassi questo tratto non mi piace per niente perché bisogna girare albero ok l'ho buttato giù dovremmo andare a sinistra ok sinistra oh quanto è facile raga andare in giro quando si hanno le ruote giuste spero di sbloccarle per il camion delle ruote così perché riesco a fare tutti i lavoretti senza troppi problemi uh c'è il ponte c'è il ponte è il momento mando piano piano ok potenziamento ottenuto kit di sospensioni rialzate ottimo per avventurarsi su vecchie strade o fuoristrada va bene allora adesso devo fare manovra non ti ribaltare adesso macchinina comportati bene fammi fare bella figura piano uh cacchio 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 se se ribaltata va bene dai forse ce la facciamo rotoliamo allora vediamo se riesco a mettermi eh no così no devo trovare è sempre la piglio sempre quello solo che devo riuscire niente quello non mi regge se riesco ad avvicinarmi se riesco ad avvicinarmi se riuscissi ad attaccarmi dall'altra parte dove mi posso attaccare solo lì fa attaccare dai dai vai giù macchinina e ho capito dai ma che situazione del cavolo non ho non ho altri punti non ho altri punti da appiglio al momento non ho altri punti da appiglio al momento potenziamenti ma ripartiamo dal garage e via neanche a perdere tempo anche per l'episodio allora accendiamo le lucine ecco fatto facciamo la strada la strada per andare la allora se no stavo lì a perdere troppo tempo a cercare di raddrizzarmi quando alla fine comunque sono vicino al garage vediamo un po' tanto per fortuna non è successo nulla di che sto solo andando in giro a sbloccarmi i potenziamenti allora 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 se riesco vorrei andare di qua aspetto ho sbagliato vediamo se è possibile fare questo giro per andare di qua devo andare qua su a prendere questo poi un altro potenziamento e là in fondo dopo devo vedere di fare manovra e andare là più avanti vabbè intanto ci proviamo così ci proviamo vediamo che potenziamenti mi trovo vorrei tanto trovare delle ruote per il camio proviamo la telecamera interna qui dalla macchinina faccio un po' interna un po' esterna che devo capire anche io un po' la strada vadi vadi non si fermi vediamo camminiamo senza bubbi finché ce la fa risparmiamo un po' di benzina eh no qua mi sa che serve dai ho di lag ok via la vd siamo sul terreno sull'asfalto voglio dire fa presto a calare la sera qua in questo gioco eh giusto per renderci le cose più facili che non è mica così semplice è semplice sto gioco se hai i mezzi buoni con le ruote giuste è un altro discorso allora vediamo un po' sta strada che devo fare un po' stretta oh cavolo e vabbè oh mamma mia si sale addirittura sopra le rocce gira macchinina gira gira certo che i potenziamenti li hanno messi in punti proprio comodi eh ah devo andare di qua siamo sicuri eh direi di sì la stradina è questa oh no 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 mannaggia e ora dove mi attacco c'è sempre solo un albero no c'è questo c'è questo c'è il alberello tirami allora aspetta mi devi raddrizzare vediamo se si riesce dai no ok ce l'abbiamo fatta no ribalto di nuovo mi ribalto di nuovo cavolo raga fare sta stradina non è la cosa proprio più semplice allora raga mamma mia non vi dico la fatica non vi dico mi sono ribaltata una marea di volte nonostante cercavo di aiutarmi con un albero tra un albero e un altro praticamente sempre col vericello per riuscire a passare quel punto mamma mia tostissima ho passato almeno quindici minuti a raddrizzare la macchina perché per ogni metro che facevo si ribaltava ma ce l'ho fatta siamo qui siamo arrivati al potenziamento che fatica un episodio non ci bastava altrimenti se registravo tutti i tentativi per passare quel punto ok kit di sospensioni ancora sospensioni trovo sempre quelle allora ok accettiamo e andiamo avanti e devo andare avanti in qualche modo dovrei tornare giù devo tornare giù dovrebbe essere più facile raggiungere quell'altro non so se ci riesco o mi butto giù da qualche parte vediamo se posso perché devo finire nella stradina è davvero tosto qua cioè questa macchina è sensibilissima proprio devo fare piano 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 ok apro un attimo la mappa devo fare devo scendere qui e andare per di qua arriviamo qui e svoltiamo quindi da qui poi non dovrebbe essere troppo difficile ok ci proviamo devo riuscire a scendere pian pianino spero di non doverci passare più in questa stradina un trauma un trauma con questa macchina perlomeno che tutta che dondola un po' di qua un po' di là ho un po' di danno al motore devo fare rifornimento con la benzina ma ce la faccio eh piano macchinina piano piano non so se qualcuno di voi che vede il video le ha già fatte queste stradine ma chissà se vi siete ribaltati in caso scrivetemelo ragazzi se anche voi qui avete fatto fatica mi ribaltavo di continuo acqua ok qui è andata bene proviamo di qua oh gira piano ci vuole una bella pazienza questo gioco ecco eh dove è il potenziamento eccolo è qui è qui l'abbiamo sblocchetto non ti ribaltare ok sblocco questo vediamo che cos'è ok vediamo revisione completa del design originale la sua pura potenza si si scontra solo su con il consumo di carburante con il consumo di carburante eh portare carburante di riserva ma quindi che cos'è non l'ho capito bene vediamo non disponibile per il camion attuale vabbè per questo tipo penso sia un motore comunque il potenziamento di un motore poi vedremo sarà di qualche camion e questa è fatta allora dove posso andare io direi di andare a sbloccare questa torre la stradina che mi devo fare è simpatica come quella di prima anche se vorrei evitare raga perché veramente qua è tostissimo camminare qua su è tostissimo io vorrei scendere piuttosto allungo un pochettino e vediamo se ci arrivo di qua vediamo un po' perché devo scendere quindi ripassare da queste zone devo un attimo capire se no forse posso evitare vediamo un attimo stazione di servizio posso anche rifornirmi vediamo se riesco perché posso salire di qua mi evito questa in effetti e qui speriamo che vada bene ci proviamo ci proviamo così allora rifacciamo manovra ho troppa poca benzina mi devo rifornire però rifornisci ok devo scendere sì devo stare molto 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 attenta ok stessa cosa di prima che Grazie. Oh, stavo per andare contro l'albero. Piano, piano. Ho sempre paura di perdere l'equilibrio con questa macchina. Ok, ci siamo. Si può rifornire qua la scorta che ho? Vediamo. Scout, carburante, portapacchi. Esatto. Poi, a sto punto anche la scout siamo a posto. È al serbatoio piccolo, si sa mai qua. Piano, piano. Non ci ferma nessuno. Ui, ui, gira. Allora. Devo andare su. Oh, cavolo. Cioè, è tutta ballerina sta macchina. Piano perché qua, ecco. Appunto. No. Cioè, gira pronta per ribaltarsi. Piano. Devo accelerare piano piano, a colpetti. Se no si ribalta. Dai, voglio solo arrivare alla torre. Piano piano. Non ci credo, ci sono arrivata. Che ansia, ragazzi. Ce l'ho fatta. E anche questa è fatta. Sono contenta. Apriamo la mappa. Vediamo. Beh, devo sbloccare solo quella. Questo potenziamento. Poi, se ce ne sono altri che non vedo, non so. Comunque, vedremo il prossimo episodio. Magari, vado a prendermi il potenziamento. Sblocco quella torre. Vediamo cosa avrò tempo di fare la prossima volta. Adesso recupero. Andiamo in garage. Allora, ragazzi. Io mi fermo qua. Intanto ne approfitto per salutare tutti i nuovi iscritti. Anche quelli più vecchietti, che mi seguono anche quando vado in live nel canale Viola. Chiamiamolo così. Guardate il link in descrizione, ragazzi. Perché vi lascio appunto il link del mio canale Viola. Non dico il nome, tanto sapete qual è. Dove streamo tutti i giorni da lunedì al sabato. Il link, se volete entrare nel mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora. Il link per comprare il gioco scontato. Se volete supportarmi su Istan Gaming potete comprare il gioco scontato utilizzando il mio link. Io vi ringrazio tutti, ragazzi, per i commenti che lasciate. Perché guardate il video. Spolliciate, così cresciamo. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao a tutti!